Nasce sulle sponde del lago di Massaciuccoli la prima filiera italiana dell'eucalipto biologico ed ecosostenibile. Coltivazione e trasformazione bio, ricerca e tecnologia all'avanguardia si fondono insieme per dare vita ai prodotti interamente realizzati in Toscana con il marchio Oligea. Sono una decina le aziende tra agricole ed artigianali coinvolte lungo la filiera del progetto lanciato nel 2017 dalla Versil Green di Massarosa che nel frattempo ha più che raddoppiato le superfici coltivate passando da 3.000 metri quadri a 16.000 tutti i certificati biologici. L'eucalipto è l'ingrediente principale di creme per viso e corpo, gel e spray igienizzanti, oli essenziali, saponi, detergenti per la casa ma anche birre aromatizzate e caramelle d'orzo fatte a mano nei pentoloni di rame. Tra i prodotti più ricercati ci sono sicuramente la linea di gel l'eucalipto è infatti considerato sin dall'antichità un efficato igienizzante naturale con proprietà balsamiche, lenitive, rinfrescanti e deodoranti. Oggi queste caratteristiche sono state convalidate da studi scientifici. La nostra azienda dal 1999 coltiva eucalipto e da alcuni anni ha realizzato un proprio brand per rimettere sul mercato prodotti trasformati e finiti andando a creare diciamo a chiudere la filiera e controllando il tutto l'intero processo e l'intera tracciabilità dal seme fino al prodotto finito e questo l'ha fatto attraverso anche una serie di alleanze sul territorio con altre aziende agricole ma anche piccoli trasformatori artigiani che come noi vogliono praticamente diffondere benessere sul territorio attraverso la realizzazione appunto di prodotti ecosostenibili a chilometro zero e anche creare prodotti di valore, vere e proprie eccellenze.